intanto questo loop continua all'infinito l'ultimo è stato Panetti reagisce alla reazione del maestro che reagisce alla sua reazione al freestyle tu adesso dovresti fare il maestro reagisce alla reazione di Panetti che reagisce alla reazione del maestro che reagisce alla reazione il loop continua? il loop continua? siamo sempre noi? questa catena deve continuare però perchè per morsi così a un peccato il respiro il gischietto sembrava tipo il citofono dei casami mi ha fatto in per un attimo e ho detto ma devo dire se ero grazie 3 mesi c'è una reazione nostra una reazione del maestro in te club in te club in te club in te club dovresti farti tatuare un fascetto da faccello sulla terra come stai sinora? adesso sta reagendo alla reazione non si capisce niente non si capisce niente grazie mille babbo un bacetto mica apposto ohhhh ohhhh non si capisce niente non si capisce niente anche adesso oddio ti rendi conto quando spesso che si fraccano non lo spesso quando parli tu l'addentro non so capendo infattisco ma che cazzo è ma che cazzo è ma che è padre woe no? adesso quando si fa la reaction o la reaction ci saranno ancora più voci sovrapposte sarà un disagio la reazione in italia bello grazie txp grazie da sab tommy grazie da sab madonna santo la cosa è impossibile la cosa è impossibile